nonostante l'impegno che teneva occupato Filippo Brunelleschi per seguire il cantiere della cupola di Santa Maria del Fiore di cui abbiamo in precedenza conosciuto la storia il nostro Filippo Brunelleschi verrà via via coinvolto e chiamato a lavorare in altri cantieri molto importanti nella Firenze dei primi decenni del 400 vi nomino alcune delle opere che vi farò vedere non le analizzeremo in modo del tutto approfondito ma vi parlerò dell'ospedale degli innocenti vi farò vedere la sacrestia vecchia di San Lorenzo la cappella dei pazzi vi farò vedere la chiesa di San Lorenzo e quella di Santo Spirito giusto per avere un po' una scaletta dei nostri lavori allora Filippo Brunelleschi e vi ho detto incarna perfettamente l'idea dell'architetto moderno colui che ha rivoluzionato l'architettura all'inizio del primo rinascimento da che dicevamo i cantieri erano grandi luoghi di costruzione anonimi nel senso che partecipavano tantissime maestranze ma non c'era un singolo che si prendeva l'incarico la responsabilità di progettare e seguire passo passo la lavorazione la messa in opera del progetto ecco Filippo Brunelleschi invece davvero incarna questa figura totalmente nuova e moderna ma lo farà anche perché vedrete lo vedete anche già in questo disegno molto bello che ho trovato di riproduzione di una delle sue opere che vi illustro tra un attimo vedrete che Brunelleschi torna a proporre un'architettura che è fatemelo dire a misura d'uomo è un'architettura che non risulta né opprimente né annientante come era invece magari l'effetto che si produceva entrando nelle cattedrali gotiche qui vedete la cattedrale di Chartres all'interno e davvero l'effetto è sconfinato maestoso e l'uomo fedele si sentiva piccolo piccolo sopraffatto da queste dimensioni così enormi no dimentichiamoci tutto questo perché invece il nostro Filippo Brunelleschi tornerà a ragionare come già dicevamo a ragionare sulle proporzioni delle parti da impiegare nell'architettura l'architettura è paradossalmente l'arte che dovrebbe coinvolgerci di più perché è quella che noi possiamo percorrere quella dentro cui possiamo entrare non ci avete forse mai pensato ma noi entriamo nelle opere d'arte quando varchiamo lo spazio di un edificio di architettura ma Brunelleschi vi dicevo tornerà a riflettere sul senso delle proporzioni in particolare proporzioni che abbiamo detto e definito musicali poi ve lo capiremo ancora un po' meglio insieme tra poco e tornerà a ragionare riflettere impiegare forme geometriche molto semplici come voi potete già vedere a questo colpo d'occhio con forme quadrate per la pianta dei suoi edifici spesso anche per l'alzata perché la forma quadrata a questo punto se ho in pianta e in alzata viene fuori una specie di cubo ecco una struttura che si rivela essere anche molto stabile oltre a queste forme semplici geometriche tipiche della razionalità dei primi anni del 400 il nostro Filippo Brunelleschi che aveva compiuto tantissimi viaggi a Roma di studio come sappiamo tantissimi qualche viaggio a Roma di studio come sappiamo riporterà in uso la vera e propria sintassi classica in particolare quella romana perché lui appunto era stato a Roma in particolare che cosa riprenderà dall'architettura classica? Sicuramente tornerà a usare gli ordini architettonici vi ricorderete che quando vi ho parlato ad esempio dell'architettura prima romanica e poi gotica vi dicevo che anche soltanto guardando i capitelli vedevamo che non ce n'era uno uguale all'altro e non c'era un sistema di ordini perché gli ordini non erano soltanto riferimento alla classicità nel senso di codici d'orico, ionico, corinzio si trattava proprio di proporzioni e regole matematiche ecco allora Filippo Brunelleschi tornerà a ristudiare, riscoprire gli ordini architettonici qui già intravedete dei capitelli corinzi in parte ma vedrete che, lo vedete già qui, tornerà a usare anche, a riflettere e usare tanto l'arco a tutto sesto abbiamo appena, vi ho appena mostrato il confronto con le cattedrali gotiche vedete che gli archi ogivali spingevano la struttura verso l'alto scaricando velocemente il peso a terra ma in questo modo le proporzioni erano totalmente modificate vedete che invece l'architettura di Brunelleschi si presenta così proprio a colpo d'occhio, a respiro, un'architettura profondamente razionale tra l'altro Filippo Brunelleschi impiegherà sempre le membrature degli elementi costruttivi in modo visibile cosa intendo dire? io dico spesso che Brunelleschi è quasi un primo architetto minimalista cosa intendo dire? forme geometriche essenziali oggi quando pensiamo al minimalismo pensiamo a quello non solo, ma lui usava sempre elementi costruttivi che coincidevano con gli elementi decorativi voglio dirvi, guardate questo esempio adesso ne parliamo un po' meglio è l'ospedale degli innocenti vi spiego tra un attimo cos'è ma vedete che abbiamo delle colonne tra l'altro a fusto liscio vi dico anche questo tra un attimo colonne con i capitelli e gli archi con la moda natura degli archi ecco, sono gli elementi costruttivi che sostengono la struttura la trabeazione al di sopra, ma sono anche gli elementi decorativi perché vedete che c'è un gioco coloristico tra i materiali che Brunelleschi impiega che saranno quasi sempre dati da questo gioco di contrasto geometrico ritmico, visivo tra pietra serena, quella grigia che vedete era la pietra all'arenaria locale tipica di Firenze e il contrasto con l'intonaco bianco capiremo tutto questo un po' meglio tra un attimo vi dicevo che i capitelli corinzi e le colonne con il fusto liscio in realtà forse Brunelleschi li aveva davvero ripescati dall'architettura del Pantheon per dire ma forse anche li aveva ripescati dall'architettura romanica toscana in particolare dal Battistero non ve l'ho inserita come immagine l'abbiamo vista talmente tante volte ma vi ho inserito ad esempio qui invece la facciata e poi vi ho messo in un altro passaggio tra poco l'interno della basilica di San Mignato al Monte sempre a Firenze quindi siamo nel pieno romanico vedete appunto le colonne a fusto liscio e il capitello corinzio e il disegno dell'arco a tutto sesso che ancora si impiegava in questo caso nel romanico toscano un'altra caratteristica ecco questo è l'interno del Battistero che ho messo all'interno perché vi metto spesso all'esterno ma forse sull'interno non ci siamo mai fermati più di tanto un'altra delle caratteristiche tipiche di Brunelleschi poi analizziamo un po' meglio le opere riguarda l'uso che lui faceva delle paraste o delle lesene scanalate vi ricorderete che le paraste o le lesene sono elementi architettonici nel caso delle paraste sono quasi sempre angolari come se fossero dei pilastri piatti dicevamo che hanno una funzione puramente decorativa in particolare le lesene le paraste possono anche avere un po' una funzione portante le vedete in questo caso sono queste strutture appunto scanalate e le scanalature che Brunelleschi impiegava erano sei scanalature verticali come se la parasta fosse una specie di quarta parte di un pilastro come se fosse una colonna quadrangolare scanalata perché le colonne corinzie avevano 24 scanalature e quindi è come se Brunelleschi avesse voluto riportare in uso le colonne dell'epoca appunto romana ma nella versione appunto rinascimentale quindi un'imparzialità cioè sei scanalature quelle che voi vedete, intuite, intravedete nell'interno di questa sagrestia vecchia di cui parliamo tra poco ancora quali altri elementi lui tornerà a impiegare userà dall'architettura classica ma in parte anche dal romanico toscano l'abaco del capitello sormontato da una porzione di trabeazione ve lo mostro qui questo elemento noi lo chiameremo dado brunelleschiano allora vedete c'è la colonna liscia la vedete sotto sopra vedete che c'è un capitello corinzio o corinzieggiante vedete che abbiamo due girali di foglie di acanto con delle volutine a spirale intorno, anzi sopra poi vedete che al di sopra del capitello abbiamo un abaco appunto concavo con questa forma appunto stondata al di sopra del quale abbiamo io ho detto una porzione di trabeazione vi ricordate che cos'è la... ai 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 tempi duri dobbiamo andare a recuperare il passato vi ricordate cos'è una trabeazione? ovviamente ne abbiamo parlato quando io vi raccontavo gli elementi del tempio greco e vi dicevo che la trabeazione è composta dalla successione in verticale partendo dal basso di architrave, fregio e cornice allora dal momento in cui Brunelleschi recupera l'ordine corinzio l'architrave corinzia era tripartita in senso orizzontale lo vedete molto bene qui al di sopra del capitello vedete che c'è questa sorta di dado lo chiamiamo in questo modo la parte più bassa è tripartita in senso orizzontale equivale, equivarrebbe all'architrave ionica o corinzia al di sopra vedete che abbiamo un fregio che nel caso di Brunelleschi può essere come nel caso della chiesa di San Lorenzo che vi sto mostrando un fregio decorato oppure in alcuni casi avremo addirittura un fregio con le facce lisce ancora più luminoso, lineare l'effetto e al di sopra una cornice quindi questo sarà il nostro dado brunelleschiano l'effetto quale sarà? quello di slanciare ulteriormente vedete che l'imposta dell'arco è al di sopra del dado brunelleschiano quindi vuol dire che gli archi a tutto sesto che Brunelleschi impiegherà avranno un effetto come dire un respiro mi sento proprio di sospendere il respiro per un attimo perché vengono innalzati con un effetto ancora più razionale ancora più pulito ancora più luminoso ma ancora un po' riflettiamoci perché questa esigenza? Brunelleschi aveva fatto questi viaggi a Roma era innamorato della classicità anche in senso costruttivo l'abbiamo visto nella cupola di Santa Maria del Fiore ma come poteva in un'epoca come quella rinascimentale reintrodurre gli elementi di un tempio pagano all'interno del tempio cristiano cioè le basiliche si è inventato questa stratagemma questo dado così lo chiamiamo noi appunto il dado brunelleschiano questo elemento architettonico che in qualche modo rubava un frammento della traveazione del tempio classico per portarlo all'interno delle chiese delle basiliche cristiane ok cominciamo il vero e proprio lavoro sulle sue opere la prima opera che voglio raccontarvi vi ho detto non in modo approfonditissimo è lo spedale degli innocenti vedete la scritta si scrive spedale perché non era un ospedale come lo intenderemo noi oggi ma era una specie di orfanotrofio c'era una ruota che si trovava all'ingresso di questo edificio e le ragazze madri che non volevano occuparsi dei loro neonati abbandonavano questi bambini all'interno di questa ruota che veniva fatta appunto ruotare e i bambini venivano quindi trasferiti piangenti venivano trasferiti all'interno di questa struttura e c'era qualcuno che quindi se ne prendeva cura ora spedale degli innocenti il nostro brunelleschi verrà incaricato di realizzare questo progetto tra il 1419 e il 1423 è importante per noi anche perché è un po' forse una prima volta in cui abbiamo l'idea della sistemazione anche di una struttura che si affaccia su una piazza che è la piazza di Santissima Annunziata e quindi diventa quasi una specie di prima piazza rinascimentale anche perché voi vedete che c'è questo bellissimo portico questo affaccio con questo dialogo che ovviamente si faceva un po' da tramite tra lo spazio della città lo spazio esterno e lo spazio interno della vera e propria struttura dell'ospedale qui vi ho messo la pianta vedete che nella parte bassa vediamo la gradinata vedete proprio le linee orizzontali che segnano la gradinata e poi abbiamo le vere e proprie campate chiamiamole davvero così per queste arcate che avete visto in questa foto poi nella parte dietro abbiamo un bellissimo chiostro anche questo forse un po' il prototipo davvero del chiostro rinascimentale sulla sinistra la vera chiesa legata alla struttura e sulla destra il dormitorio per gli orfani questo è il bellissimo chiostro appunto vi dicevo vedete la struttura quadrata vedete le proporzioni per Brunelleschi saranno sempre fondamentali e lo scopriremo molto bene tra un attimo in particolare vi dicevo l'ospedale degli innocenti vedete che presenta questo portico che si affaccia sulla piazza come se fosse alloggiato al di sopra di uno stilobate uso un altro dei termini che abbiamo impiegato dalla architettura dei templi greci in realtà quindi lo stilobate non sappiamo essere l'ultimo gradino del crepidoma quindi la scala che noi vediamo questi nove gradini che separano la piazza dal vero proprio spazio dell'ospedale ci richiamano quest'idea dello stilobate del crepidoma dello stilobate ma vedete che ci sono nove arcate lo vediamo vediamo dove ve l'ho messo nove arcate lo vediamo forse qui nel progetto si vede un po' meglio ecco sono nove gradini dicevamo ma sono anche nove arcate con archi a tutto sesto nove campate coperte con volte a vela lo vedete in questo caso e lo vedete forse meglio ancora qui al di sopra di questa struttura voi vedete che ci sono delle finestre timpanate vi ricordate che le finestre timpanate sono finestre che sono sormontate da una figura a timpano cioè triangolare ancora una volta a richiamo dei frontoni dei templi greci diciamo sempre che ogni volta che troviamo la forma del timpano c'è un richiamo alla classicità beh con Brunelleschi il richiamo alla classicità è molteplice l'abbiamo visto notate anche come queste finestre cadano in modo perfetto a piombo alla metà delle campate di questi archi che noi vediamo le finestre timpanate tra l'altro vi segnalo che erano presenti però anche nel battistero di San Giovanni di Firenze alternate alle finestre invece centinate quindi con gli archi vedete che queste finestre poggiano sulla cornice più alta della trabeazione trabeazione che vedete che parte tangente agli archi che vediamo nella parte appunto sotto ed è sostenuta da un ordine maggiore di paraste che troviamo all'estremità scorrette con gli occhi a sinistra e a destra della foto e vedrete che abbiamo delle paraste paraste o leseni in questo caso sono paraste appunto che sono però affiancate queste paraste che vedete lateralmente da delle colonne libere ora vi faccio vedere un elemento un affresco su cui noi lavoreremo tra non tante lezioni che è un affresco meraviglioso di Masaccio che presenta un'architettura che da molti è stata definita brunelleschiana perché vedete che gli elementi sono gli stessi le sene o paraste che siano tanto questo è un affresco scanalate con le sei scheranature al di sopra abbiamo i capitelli corinzi al di sopra abbiamo la trabiazione con architrave orizzontale tripartito e così via vedete che davvero questi elementi torneranno quindi davvero questo è molto curioso nello spazio tra i timpani cioè lo spazio che separa le arcatelle c'erano dei tondi progettati da brunelleschi tondi concavi a scodella scavati esattamente come erano quelli che vedete là in alto appunto nello spazio tra la cornice dell'arco e i capitelli corinzi ecco nel tempo questi tondi sono stati sostituiti da delle ceramiche invettriate della famiglia dei della robbia in particolare sarà Luca della robbia il grande artefice di queste produzioni ma la famiglia dei della robbia sarà specializzata nel quattrocento appunto con queste ceramiche invettriate ottenute grazie a delle cotture particolari della ceramica ora c'è un elemento ecco qui state vedendo la foto dell'interno di San Mignato al Monte vi dicevo sempre romanico quindi vi sto facendo fare un passo avanti e indietro nel tempo per farvi capire ecco da San Mignato al Monte Brunelleschi diciamo che si farà ispirare anche per il pulvino modanato sopra il capitello corinzio io prima me l'ho chiamato abaco vedete che sopra il capitello c'è questa sorta di abaco che in questo caso è un vero e proprio pulvino vi ricordate che il pulvino l'abbiamo incontrato noi parlando di architettura bizantina aravenna in particolare ecco questo elemento verrà ripescato da Brunelleschi dal romanico di San Mignato ma vi dicevo Brunelleschi lavora per forme geometriche molto semplici e proporzioni serrate in particolare non vi stupirà a questo punto vi ricordate che vi dicevo l'architettura di Brunelleschi potrebbe quasi essere suonata come se fosse una partitura perché rispecchia delle proporzioni matematiche tra le forme e le misure degli elementi che impiega allora non vi stupirà scoprire che lo spazio tra le colonne il cosiddetto intercolumnio è pari all'altezza quello che voi vedete come in contraddistinto con la lettera A è pari all'altezza delle colonne così come è pari alla profondità è come se fosse uno spazio cubico vuoto cavo che noi percepiamo in particolare abbiamo mostrato prima questa foto quando si percorre questa galleria questo portico sembra quasi di attraversare uno spazio razionale cubico vuoto molto bello questo effetto ancora voi vedete che l'altezza delle finestre timpanate è la metà dell'altezza delle colonne quindi dell'intercolumnio quindi dello spazio tra le colonne e il muro così come vedete che se è un quadrato la forma di base che troviamo tra le colonne l'arco a tutto senso che c'è sopra ovviamente è di altezza della metà e così via se potete vedere appunto la dimensione dell'altezza dallo stilobate alla cornice su cui appoggiano le finestre è due volte a così come dalla cornice fino al colmo del tetto vedete appunto anzi se al colmo del tetto vedete che è di nuovo l'altezza quindi davvero proporzioni molto articolate molto studiate ripetute qui ho trovato un altro schema che ci mostra ancora meglio questo effetto guardate come tutta l'architettura però sia estremamente semplice e nuda gli elementi costruttivi coincidono con gli elementi decorativi non c'è bisogno di aggiungere nient'altro è un concetto di architettura coraggiosissimo e modernissimo non occorre decorare gli elementi usati impiegati sono già lì in vista perché sono perfetti per essere mostrati così come sono qui vi ho messo un po' di altre foto perché appunto non trovavo foto che mi accontentassero del tutto per l'ospedale degli innocenti quindi ho cercato un po' ed ecco qui qui c'è un progetto anche sull'illuminazione ok e alla fine fosse qualcosa di decente l'ho trovato spero per darvi l'idea spostiamoci rimaniamo a Firenze e voglio a questo punto raccontarvi qualcosa della sagrestia vecchia che Brunelleschi realizzerà tra il 1422 e il 1428 siamo vi ho detto nel complesso di San Lorenzo perché parlo di complesso perché Brunelleschi sarà incaricato di realizzare la basilica di San Lorenzo ve la mostrerò dopo ma vedete appunto che è una basilica con un corpo longitudinale con una parte coperta da una cupola che voi vedete ma parliamo di sagrestia vecchia perché Brunelleschi costruirà la sagrestia vecchia ma durante il 500 Michelangelo Bonarroti costruirà invece la sagrestia nuova quindi davvero dobbiamo specificare quali dei due edifici stiamo analizzando allora qui vi ho messo anche un altro schema che ho trovato molto bello fatto da uno studio d'architettura che stava rielaborando un progetto per l'apertura del museo del complesso ecco quello che vi ho indicato con la freccia aranciona è la sagrestia vecchia di Brunelleschi dall'altra parte quindi in questo caso la vediamo a sinistra invece la sagrestia nuova di Michelangelo per il momento non ce ne occupiamo allora qui di nuovo la pianta pianta della basilica quindi pianta basilicale trenavate con il transetto vi mostro anche il fatto che ci siano le le absidi quadrangolari ancora a risentire dell'influenza del romanico e del gotico toscano già l'abbiamo visto molto bene allora analizziamo adesso la sagrestia vecchia qui vedete a destra la pianta una pianta appunto quadrata con la parte segnalata in giallo nella parte alta della pianta in realtà è la scarsella questo spazio con l'altare che era tipico di queste costruzioni appunto toscane pianta quadrata in cui davvero ancora una volta la forma del quadrato e la forma del cerchio giocano tra loro a questo punto anche se l'immagine non è bellissima guardatela per un attimo giusto per capire ancora una volta i moduli Brunelleschi lavora con l'idea del modulo l'architettura modulare l'abbiamo già visto prima forse non ho non ho ribadito abbastanza l'effetto del ritmo che si viene a creare lo spazio scandito ed ecco che torno a usare la definizione di architettura musicale ecco lo vedete molto bene anche in questo caso di nuovo stare all'interno della sagrestia vecchia equivale quasi ad avere l'impressione di essere in uno spazio cubico sormontato da una semisfera perché lo spazio è cubico e al di sopra c'è una cupola emisferica quindi questo è l'effetto qui vedete da sotto ecco capite molto meglio cosa vi volevo dire allora intanto il nostro Filippo Brunelleschi aveva ricevuto l'incarico di realizzare questa sagrestia vecchia da Giovanni di Averardo de' Medici chiamato anche Giovanni di Bici di Bici scusate il quale Giovanni di Bici era padre di Cosimo il Vecchio quello che sarà poi il capostipite dell'illustrissima stirpe dei Medici che voi conoscete molto bene ma Giovanni di Bici aveva chiesto a Brunelleschi questa questa struttura non semplicemente come una sacrestia sapete che è il luogo in cui il clero si veste si prepara per la funzione religiosa ma nel caso appunto di questa sagrestia Giovanni di Bici aveva voluto anche chiedere uno spazio che potesse essere impiegato come cappella funeraria di famiglia quindi nel complesso di San Lorenzo Giovanni di Bici aveva fatto edificare questa cappella funeraria di famiglia che però era anche la sagrestia le due cose insieme sarà tumulato lì insieme alla moglie allora non vi stupirete se questa sagrestia ci fa respirare una sorta di calma e solennità che hanno a che fare con l'idea del mausoleo questo luogo molto sacro solenne silenzioso perché è anche una tomba e quindi ecco che c'è l'idea della luce c'è l'idea dell'ombra c'è l'idea della geometria della razionalità l'idea dello spirito del soprannaturale e allora riflettiamo per un attimo non l'abbiamo fatto prima lo facciamo adesso riflettiamo un attimo sulle due forme principi che usa il nostro Brunelleschi il quadrato e il cerchio quante volte io vi ho detto il quadrato è l'elemento terreno e razionale la forma terreno e razionale per eccellenza quella umana quella che coincide con lo spazio terreno degli uomini mentre la forma circolare è quella che coincide con le forme perfette del creato e quindi della natura e quindi di Dio il cerchio non ha un inizio non ha una fine quindi è perfetto per raccontarci anche della resurrezione dello spirito ecco queste due forme meravigliose verranno impiegate in tutti i modi dal nostro Brunelleschi lo fa il nostro Brunelleschi lo vedete qui qui vedete appunto l'alzata lo fa con questo spazio cubico appunto sormontato da questa cupola emisferica ombrelli forme avete visto qui nel senso che ci sono gli spicchi suddivisi da questi 12 costoloni ma la cupola che il nostro Brunelleschi impiega è una cupola cosiddetta a pennacchi lo so quando parliamo di architettura occorre che noi abbiamo dei riferimenti di definizioni dobbiamo assolutamente capire di cosa stiamo parlando io vi ho parlato di cupola a pennacchi in particolare quando vi raccontavo dell'architettura che risentiva dell'influenza orientale la cupola a pennacchi noi le troviamo in particolare a Santa Sofia a Costantinopoli per intenderci che cos'è la cupola a pennacchi io trovo una cupola a pennacchi ogni volta che io ho un edificio di forma quadrata o poligonale o quadrangolare su cui si innesta una cupola cioè voi vedete che la cupola per forza ha la base circolare allora come faccio a raccordare la forma quadrata della struttura alla forma circolare della cupola si creano degli spicchi di muro curvo che noi chiamiamo vele o pennacchi ecco i pennacchi sono quegli spazi che voi vedete in questa foto occupati da quei tondi e con quelli disegni al di sotto che troviamo dorati e rossi dovremmo un giorno fare una riflessione sull'uso del colore nell'epoca antica perché noi pensiamo al colore pensiamo sbagliando alla nostra sensibilità percettiva per il colore il colore nell'epoca antica aveva a che fare con qualcosa che puzzava nel senso che pensate che il rosso derivava dai molluschi servivano migliaia di molluschi per ottenere pochissimi grammi di porpora tanto che il porpora era un colore preziosissimo che già dall'epoca romana veniva impiegato soltanto per le rifiniture delle toghe per dirvi dei senatori quindi davvero per darvi l'idea ma ne parleremo ne parleremo quindi vi dicevo cupola pennacchi vedete che però al di sotto qui vediamo la struttura intanto geometrica vedete qui l'alzato con le lesene e che ci introducono alla scarsella vi faccio notare un'altra cosa forse lo vediamo ancora meglio in questa foto ci sono anzi lo vediamo qui ci sono 12 finestre oculi tonde come erano quelle del pan come era l'oculo del pantheon che sollevano innalzano ancora di più fanno entrare la luce nella cupola ma vi faccio notare anche che la forma tonda della cupola non è tangente alle modanature delle pareti questo cosa che effetto ci ottiene è un effetto di profonda leggerezza come se davvero non ci fosse se la cupola fosse sospesa galleggiasse effetto molto bello che si crea anche grazie grazie lo faccio vedere forse forse era meglio tra tutte questa foto grazie alla presenza delle finestre che facendo entrare la luce creano un effetto di controluce perché guarda verso l'alto e quindi sembra quasi galleggiare la cupola un po' come succedeva davvero a Santa Sofia molto di più ovviamente allora vi stavo dicendo guardate qui l'architettura di Brunelleschi sarà sempre la stessa cioè vedete pietra serena grigia la troviamo dappertutto forme quadrate o circolari sia in pianta che in alzata nella scarsella cioè questa sorta di chiamiamola cappella che si ha dove è costruito l'altare che la forma avete visto che è quadrata nella pianta ma è coperta da una cupola quella che vedete blu là in fondo ma anche nell'alzata perché vedete che i pilastri le paraste angolari sostengono questa trabeazione di nuovo con architravetri partito fregio e cornice da cui parte questo arco a tutto sesto quindi di nuovo le forme come se fossero quadrate e circolari o semicircolari sia nella pianta che nell'alzato quindi un effetto molto bello molto elegante molto raffinato tutto questo effetto ottenuto dal gioco anche coloristico tra pietra serena grigia e intonaco bianco o biancastro questo è uno stucco forse intonaco bianco giallo la decorazione su tutte le pareti lo vedete forse meglio qui ci mostra poi nel fregio questi tondi con i cherubini con queste figure angeliche di cherubini appunto in blu e in rosso di nuovo dovremmo fare un discorso legato al colore perché appunto il blu era blu l'apislattolo proveniva dall'attuale afghanistan quindi era un altro colore preziosissimo che rivelava non soltanto era il colore impiegato per parlare della spiritualità ma rivelava la ricchezza dei committenti sia il rosso che il blu noi questo ce lo perdiamo l'oro rosso e il blu erano i colori più costosi in assoluto e c'era una sorta di gerarchia tra i colori e davvero questo sarebbe interessante approfondire ma non adesso prossima opera che vi mostro anche se velocemente la cappella dei pazzi molto simile come struttura sarà realizzata da Brunelleschi a partire dagli anni 30 del 400 ma Brunelleschi non la compirà quindi in realtà l'opera è stata rivista in seguito ma vedete qui la pianta la vedete in basso una struttura rettangolare al centro della quale troviamo una specie di cubo di nuovo coperto con una cupola semisferica e le due parti laterali sono coperte da due volte a botte lo vedete molto meglio qui guardate che meraviglia sembra di entrare in un tempio antico in un tempio classico i viaggi romani di Brunelleschi si fanno sentire e di nuovo vedete che abbiamo gli stessi elementi pietra serena paraste spesso angolari scanalate con sei scanalature che sostengono l'architrave tripartita il fregio decorato la cornice e di nuovo incorniciano la struttura appunto con gli archi le modellature ben in evidenza anche in questo caso la cupola vedete ombre uniforme con gli oculi le finestre alla base vedete che gli elementi sono sempre gli stessi qui intanto vedete meglio i tondi di Luca della Robbia in questo caso è proprio lui questi tondi con questa ceramica in vetriata tipica del 400 che da un certo punto di vista sporca un po' con un colore un po' troppo acceso questa pulizia formale che troviamo invece tipica dell'architettura di Brunelleschi ma era tipica anche questa di quegli anni vi ho messo una serie di foto per mostrarvi la meraviglia di questi giochi vedete ancora anche in questa copertura della volta botte vedete che abbiamo le forme quadrate come elemento decorativo ancora una volta quasi concettuale quadrato e cerchio che si rincorrono meravigliosamente vi parlo adesso velocemente anche delle architetture basilicali che il nostro Brunelleschi realizzerà a partire dal 1418 sarà incaricato a realizzare la basilica di San Lorenzo che abbiamo visto prima nel complesso dall'alto basilica vedete appunto con tre navate e cappelle laterali vi vorrei mostrare ancora una volta che sia le absidiole che le cappelle laterali erano quadrangolari quindi molto razionali e squadrate guardate anche la bellezza del gioco proporzionale tra le paraste che vedete là in fondo che ci introducono alle cappelle laterali che incorniciano gli elementi verticali degli archi con le modanature sempre in pietra serena grigia il solito materiale e vedete in questo caso la proporzione che si gioca tra l'altro vi potrà ricordare ancora una volta la struttura della trinità di Masaccio che vi ho mostrato prima eccola qua ve la vado a ripescare dov'era un po' indietro eccola qua stesso discorso le esene con l'architrave tre partite al di sopra che incorniciano appunto elementi verticali con l'arco modanato e torniamo quindi alla nostra basilica di San Lorenzo che stavamo guardando ci arrivo eccola qua di nuovo appunto colonne lisce capitelli corinzi dado brunelleschiano questa porzione di trabiazione che vi dicevo e modanature sempre con la pietra serena e guardate che bello che effetto arioso luminoso razionale l'uomo rinascimentale poteva percorrere questi spazi e identificarsi con questa misura matematica musicale proporzionale sembrava quasi davvero di avere riportato in uso le proporzioni della classicità ma con un'ottica totalmente rinascimentale moderna guardate perfino il pavimento perfino il soffitto cassettoni con questi spazi quadrati ribaditi riportavano lo stesso concetto sono foto in alcune case molto belle in altre un po' meno ma insomma ci guidano mi riferisco perché li pesco dal web quindi rubo quelle che trovo qui vi ho messo appunto il dado brunelleschiano che vedevamo prima appunto vedete che l'effetto è quello di slanciare ancora di più dare respiro all'impossa dell'arco rendere l'effetto ancora più luminoso e arioso l'ultima opera che vi mostro è la basilica di santo spirito più tarda 1428 34 circa qui vedete appunto la pianta la sezione e l'alzato allora anche qui nel progetto iniziale brunelleschi avrebbe voluto creare una basilica a tre navate con le cappelle laterali di forma semicircolare ispirata a un modello orientale certo il progetto verrà poi abbandonato le cappelle non saranno realizzate in questo modo per una questione anche di praticità anche perché poi appunto l'opera verrà compiuta più tardi ma vedete che ancora una volta i moduli che il nostro vuole impiegare sono il quadrato e il cerchio il modulo perché vedete che se la campata della navata centrale è il modulo di base poi possiamo suddividerlo ulteriormente e ottenere il modulo delle campate delle navate laterali e così via di nuovo qui vedete appunto l'effetto molto bello prospettico che ci guida sia dalla navata centrale verso le navate laterali ancora vedete qui in questo caso vedete che il dado brunelleschiano è ancora più pulito la pietra serena grigia con la modanatura degli archi con i capitelli corinzi con il dado ma vedete che il fregio in questo caso architrave tripartito fregio è liscio al di sopra c'è la cornice che conclude il tutto ma è ancora più pulito l'effetto di insieme guardate la luce e la meravigliosa razionalità che si respira all'interno di questi spazi ecco questi erano gli spazi degli uomini nuovi del 400 il primo rinascimento nasce con Brunelleschi non soltanto per il concorso del 1401 che abbiamo visto non soltanto con la meravigliosa realizzazione della cupola che abbiamo visto mostrarci un architetto completamente nuovo ma anche per queste forme per queste misure per queste proporzioni che Brunelleschi torna a impiegare grazie